Buongiorno e bentornati a Gilda TV. Oggi sul sito nazionale www.gindains.it è stata messa in rete la rivista mensile professione docente diretta da Renza Bertuzzi. Andiamo insieme a sfogliarla. L'editoriale di Rino di Meglio su professione docente di aprile dal titolo La scuola ha bisogno di democrazia punta l'attenzione sulla necessità di costruire un futuro in cui siano presenti e condivisi valori importanti riconosciuti dalla nostra carta costituzionale come il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei cittadini. E se la scuola in cui crediamo sostiene Rino di Meglio è quella della Costituzione italiana anche il problema del rapporto tra scuola e lavoro nei periodi di crisi va affrontato ricordando l'articolo 1 della Costituzione che riconosce il diritto al lavoro per tutti i cittadini. Oggi, scrive Renza Bertuzzi, il problema, soprattutto della disoccupazione giovanile, va affrontato fornendo ai giovani le competenze necessarie per l'inserimento nella vita attiva e promuovendo progetti come quello firmato con la Germania per il rilancio degli istituti tecnici. Per maggiori informazioni si può leggere l'intervista a Elena Ugolini, sottosegretario della pubblica istruzione. Nelle mie pagine del mensile viene più volte annunciata la firma dell'accordo sugli scatti d'anzianità 2011, bloccati con una manovra finanziaria dal governo Berlusconi-Tremonti nel 2010. Gli studenti che hanno terminato il loro ciclo di studi e sono inseriti nel mondo del lavoro hanno espresso giudizi positivi sulla loro esperienza scolastica e in particolare sui docenti. E' quanto si legge nella pubblicazione del Consorzio Interuniversitario Alma Laurea e associazione Alma Diploma che dal 2000 hanno raccolto i profili e i giudizi di ex studenti. Nell'articolo le riflessioni di Gianluigi Dotti. Classi di concorso e loro revisione di Fabrizio Rebeshek Per evitare che la solita pattuglia di esterti metta mano alla riforma delle classi di concorso la delegazione FIGIU-Gilda ha chiesto di riaprire un confronto con gli insegnanti scongiurando così pesanti ripercussioni non solo sugli organici ma anche sui contenuti delle discipline e delle professioni. Dall'ultimo colpo di coda del ministro Profumo arriva la valutazione delle tre I In Varsi, Indire, Ispettori. Fabrizio Rebeshek analizza il nuovo regolamento sulla valutazione. Dalla provincia di Bari una vicenda sindacale che ha fatto notizia. La scuola assume precari e per far loro posto licenze in eo assunti. Sempre per i precari l'articolo sulle sedie dei docenti con contratto a tempo determinato e la riqualificazione dei contratti a termine a cura dell'avvocato Tommaso De Grandis. Il tema dell'invadenza nella libera crescita dell'infanzia o over-parenting è affrontato nell'articolo Povere scuole, povere istruzioni che riempiendo l'intelletto lascia vuoti i cuori di Piero Morpugo. Da Padova dove si è tenuto recentemente il convegno responsabilità e scuola in termini di una relazione necessaria l'articolo di Filippo Franciosi che presenta i punti più significativi dell'incontro che ha visto fra gli altri la partecipazione del giudice Camino De Vigo. Nella rubrica culturale Professione Docente di Aprile presenta il volume di poesie Curriculum Vite di Chiara Moinas. Da Giga TV un saluto. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.